Ho parlato con una fiamma con energia maschile e mi ha spiegato bene qual è il loro punto di vista e adesso vi faccio questo video perché me lo chiedete spesso, il maschile cosa pensa, cosa sente eccetera eccetera e questa conversazione è stata veramente molto interessante allora mi dice io non sono, cioè non è mia abitudine far vedere le mie emozioni io sto passando l'inferno dentro di me, sto soffrendo tantissimo ma vado avanti, faccio la mia vita rido, scherzo, il mio lavoro, i miei impegni, tutto come se niente fosse quindi dice dal di fuori nessuno si accorge di niente ma in realtà dentro sto passando l'inferno e dico vabbè questa è l'idea che tu hai che nessuno se ne accorga no 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 nessuno se ne accorge, nessuno lo immaginerebbe mai mi dice neanche la mia fiamma e lì io sono rimasta in che senso neanche la tua fiamma no perché la mia fiamma quando è come sai come non sai io dico tutto bene e pensa che sia tutto ok quindi loro sono fermamente convinti che anche la loro fiamma non sappia niente di quello che loro stanno passando e io invece ho risposto che la fiamma femminile sa assolutamente tutto in ogni momento di come sta la sua fiamma maschile e che quindi anche in queste risposte tutto bene tutto bene dopo un po' nel senso non fanno nessun effetto perché il femminile sa che non è la verità e poi mi dice io però alla mia fiamma vorrei tanto di cosa mi sta succedendo e tutto quanto e però non so se è giusto fare gli ho detto ma certo ma se non parli con la tua fiamma con chi è che devi parlare in questa vita e dico perché non vuoi parlare e dice perché mi fa conoscere una parte di me che io non ho mai conosciuto nessuno è mai entrato dentro di me io non ho mai parlato delle mie cose con nessuno solo con la mia fiamma me le tira un po' fuori e mi entra così dentro che mi fa paura e ho paura di conoscere quella parte di me che non ho mai conosciuto quindi questo è quello che vive il maschile ogni giorno